ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale non dire che lo ricordo tanto lo sapete io sono maxi e oggi vi porto un video di un giochino che ho trovato sullo store americano ragazzi sullo store americano su un free to play americano per playstation ovviamente per scaricarlo dovete creare un account americano e ve lo consiglio anche perché ci sono parecchi contenuti che noi in italia non abbiamo quindi potrete trovare questo altri contenuti non so tipo twitch tipo altre cazzate varie insomma no andate a vedere vi create sto cazzo d'account americano e andate a vedere allora questo gioco si chiama battle island è un gioco non so stile credo che sia stile quei cazze giochetti da telefonino insomma com'è che si chiama quello che dovete costruire villaggi dovete dovete fare tutte queste cazzatelle varie insomma invece in questo giochino qui dovete dovete fare la guerra ragazzi dovete fare la guerra è un po il classico di tutti i giochi insomma dovete costruire la vostra isola le vostre isole e dovete cercare di conquistare le isole degli altri anche perché questo è un psn game quindi potete giocarlo diciamo in rete con altri giocatori questo gioco quando lo andrete a scaricare vi dirà che lo state scaricando in inglese però comunque sia dopo lo avrete in italiano come come state vedendo comunque dicevo prima è un stile clash of clansy qualcosa del genere più o meno insomma io non ci ho mai giocato a crash of clansy non ho mai visto però so che comunque si tratta di fare guerra tra villaggi e cazzate varie insomma come state vedendo qui noi andiamo a fare guerra a un'isola vicina insomma no questo è il tutorial in pratica vi farà fare il tutorial dove imparerete bene o male ad usare tutte le opzioni e tutto il resto insomma quindi una volta fatto il tutorial vi troverete a giocare al gioco io l'ho trovato molto carino è molto carino certo non so può piacere come come non può piacere come magari uno dice vabbè ma ci gioco sul telefonino a te cazzate ma non sto in giro però magari anche schermo intero non è che fa schifo insomma non ve pensate è carino da giocare io penso che poi dopo una due tre quattro volte che ci giocate le pia pure insomma a giocarci a mio avviso è un ottimo passatempo insomma per passatempo va bene non è che uno sta sempre lì a giocare gta c'è sta pure il giorno che non ti va di giocare gta e come me vai a cercare cazzatele varie stronzate varie tipo questa per cercare qualcosa di diverso per esempio allora noi come ho detto qui poi andremo a costruire la nostra isola abbiamo ad aggiungere altre isole io adesso non è che faccio vedere tutto perché comunque l'inizio il tutorial è un po lunghetto ho tagliato anche il video l'ho mandato in velocità insomma state vedendo parte del tutorial ragazzi quindi se vi interessa andate sullo store americano create un account americano che vi tornerà sempre utile e potrete scaricare qualche free to play che in italia non abbiamo ragazzi io ho scaricato parecchi free to play anche alcune versioni di gioco beta c'è parecchia robetta ragazzi niente io vi lascio il resto del video vi ricordo sempre condividete il video iscrivetevi al canale e lasciate mi piace se volete condividere il video sul vostro canale e se volete anche partecipare al concorso come io vi ricorderò tutta questa settimana ve lo ricorderò poi per la prossima settimana ragazzi non ve lo ricorderò più quindi chi sarà iscritto al canale saprà che ogni settimana ci sarà un concorso che avrà l'estrazione luogo avrà domenica insomma stasera che cazzo ho detto però va bene e lundi io dichiarerò il vincitore il vincitore che cosa vincerà un account per gta 5 con soldi rambo tutte le abilità massimo e cazzi vari quindi niente a voi i video che io pubblico non sono molti maggiori e commentate ragazzi dovete solo commentare essere un po presenti sul canale iscrivervi e tutto il resto ragazzi è semplice per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti Sì Sì